Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yehawah, Bahashem, Yehawah Shai, Bahashem, Rukah, Kodash. E il nome vero del Padre Onnipotente è Yehawah. E il nome del suo figlio è Yehawah Shai, colui che in mondo dall'ignoranza chiama Gesù. E colui che in mondo dall'ignoranza ha cambiato la sua immagine per quello di Cesare Boggia. E il nome dello Spirito Santo è la Rukah Kodash nell'antico ebraico. E voglio dare i doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi segnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, Israele, sparsi nei quattro punti della terra, Shalom. E faccio questa lezione per un video che ha postato il fratello qui, che vedete, che questa è la sua pagina, GMS Ita, Shalom Yasharala. E per favore potete anche andare a susscrivere sul suo canale, che il fratello fa dei video davvero potenti. E ha fatto questa lezione l'altro giorno, l'ho anche postato sul mio canale. E in questo video c'è arrivato un punto che si è affermato un ragazzo che chiamerei con il soprannome Jake. E coloro che guardano i video della Great Mewstone non sono familiari a questo soprannome. Il soprannome Jake. Jake rappresenta i figli di Giacobbe. Perciò noi quando vediamo i figli di Giacobbe, per esempio, anche io sono un Jake. Anche questo fratello è un Jake. Chiamiamo per il nome di Jake, invece di dire figlio di Giacobbe, usiamo il termine Jake. Perciò quando si usa il termine Jake si rappresenta un figlio di Giacobbe, che è uno della stirpa di Yasharala, Israele. E lui si è avvicinato a lui e si vede che voleva imparare qualcosa, ma si vede che il fratello è confuso. E è finito, diciamo, in mezzo alla confusione mondana che non lo aiuta nemmeno. E va bene, ecco, guardate qui. Non è un caso, dunque, questo video si ferma a 144. 1446, ma il 144 è un numero speciale. Quando lo vediamo, diamo tutti l'ordi al Padre Yahawaba Hashem Yahawashai, sperando che siamo contati tra gli eletti. E come sapete dal libro di Apocalisse ci fa capire che saranno 144.000 eletti. E preghiamo e speriamo di essere tra quei numeri là. Andiamo a prendere i video che ho messo via, qui. E guardiamo, ecco io, questo è il ragazzo, è un Jake. Si è avvicinato e sentiamo. Ma scusa, ma lo fai per te stesso o siete un credo religioso? No, per te, io, dopo che ho saputo questa verità, dopo che ho conosciuto questa verità, non riesco a stare a casa. Ah, vuoi diffonderla, tipo? Devo diffonderla, ma non sono io che lo comando. Cioè, la carne la comando io, ma lo spirito dentro di me lo comando il Padre Mio. Eh sì, come avete sentito lì, Jake ha fatto una domanda e il fratello l'ha risposto dicendo che con questa verità non possiamo stare a casa. Infatti, questo è un comandamento che ci è stato dato. Se mi ami, pasci le mie pecore. Queste sono le parole di Yahweh Shai. Quando ha chiesto a Pietro, se non sbaglio, e anche a Simone, mi ami, tu mi ami, tu mi ami, gli ha chiesto tre volte, hanno detto sì. E dice, se mi ami, pasci le mie pecore. E lì non intende un cibo fisico, intende proprio il cibo spirituale che è questa verità qui. Noi una volta veniamo in questa verità, facciamo la nostra parte di questa chiamata qui. Siamo fuori per le strade, insegnando, chiamando nel matrimonio coloro che sono stati invitati. Sono invitati molti, ma pochi saranno accettati. Continuiamo. Alla scoperta che l'immagine che oggi noi conosciamo come Gesù Cristo, come il figlio del padre, e l'immagine di Cesare Borcia, il figlio di un papa del 1500, mentre l'immagine vera, come è scritta nella Bibbia, è di colore nero. E l'immagine vera dice che il braccio e gambe sono di colore bronzo crociato, come puoi vedere anche il tuo colore. I capelli sono capelli come lana. Chi è che ha i capelli? Eh sì, come sentite il fratello? Il mio fratello si vede che è stato guidato dallo spirito qui perché in così pochi minuti è riuscito a spiegare tantissime cose fondamentali che avrebbe aperto proprio la mente di uno che è stato destinato a ricevere questa verità qui. E il racconto della descrizione del figlio del padre Yahweh Shai si trova nel libro di Apocalisse capitolo 1, versetto 13 a 15. E lì c'è la descrizione del suo colore, colore bronzo. E infatti c'è anche la descrizione di suo padre Yahweh, il nostro creatore, il nostro potere. Ok? La descrizione sua si trova nel libro di Daniele capitolo 10 da versetto 5 a 6. Anche lui c'è il colore di bronzo, ok? Perciò non sono persone caucase anche con la testura dei capelli che hanno, ok? I capelli di lana, ok? Perciò è tutto diverso dall'immagine che vediamo nelle chiese oggi. L'immagine che vediamo è l'immagine di Cesare Boggià, che è un amante segreto di Michelangelo. Sì, questo fa parte degli inganni dei tempi di rinascimento, quando i figli di Esau sono andati in potere. Sì, qui erano alla pienezza del loro potere e hanno cominciato a cambiare tutto. Andiamo avanti? Quindi quando io ho scoperto questa verità qua, non posso stare a casa zitto, capito? Ah, ma che poi sicuramente non vengono, vengono da un altro posto. Sì, sì, ho capito. Quindi oggi sto portando questa verità, sto portando la verità che ci hanno ingannato. Hanno messo un'altra immagine, hanno messo che poi qua ti spiega anche. Loro sarebbe rossata, una storia per portare. Bravissimo. Bravissimo. Sarebbe anche proprio l'uomo bianco, se per questo. La maggior parte dell'uomo... Qua c'è la nascita, se vai a vedere la storia, c'è la nascita di Esau. Esau è stato il primo primo bianco che è nato sulla terra. E i bianchi discendono da Esau. Esau non è figlio di Pelle. No. Esau è figlio di... Sì, infatti, avendo parlato con il fratello di questa scena qui, il fratello mi ha fatto capire che appena l'ha fatto capire questi punti, che il così chiamato l'uomo bianco sono i veri diavoli, ok? Quelli della stirpe di Esau, ok? E infatti dice che il volto del ragazzo è cambiato. Aveva una sorta di disinteresse, non la parola giusta. Cioè, in quel punto mi ha dato fastidio che il fratello l'abbia detto questo. Questa è la verità. Fa due cose. O accende un fuoco in te, o diventa un pilastro di blocco contro te, ok? E questo è Jake. Jake è abituato a vedere superiore i così chiamati caucaso, l'uomo bianco. Quelli che l'hanno portato in schiavitù. E deve venire fuori da questa mentalità. Ed è anche incredibile perché il stesso fratello, Charam Yasharala, che lo sta insegnando, anche lui sembra un così chiamato caucaso, ok? E sentire da uno come lui che i uomini bianchi sono diavoli, che è la verità. Lui questa cosa l'ha dato fastidio. E questi sono i figli di Israele. Ok? Come dice il libro di Isaia, capitolo 1 e 3. Dice che l'asino, sto parafrasando, l'asino e i bue conoscono il loro maestro, Maya Yasharala, no? E questo è verissimo. Loro non conoscono da destra alla sinistra. Andiamo avanti nel video. Isacco. Abraham, Isacco. Isacco ha avuto due gemelli. Giacobbe e Esau. Giacobbe, di colore, ma perché era quella la popolazione. Esau è stato il primo bianco dove era un bianco. Era caldo. Oggi, oscuri dovevano essere quasi all'80%. Eh, però ci sono tante cose che ci hanno tenuto nascosto. Eh sì. Mi interessa da quello che stavi dicendo. Adesso sto parlando della genesi, che la genesi ci hanno un po'... Perché poi sai, quando vai a conoscere la verità... E come vedete qui, lui comincia a dire che ci sono tante cose. E quando uno comincia a parlare così, riuscite a vedere che questa persona è confuso e perso. Ok? Non c'è viceversa. È confuso e perso. Questi hanno... Avrà visto un sacco di documentari, avrà letto qualche libro, diverse cose. Ma si vede che il fratello è confuso qui. Perché il fratello Charamia Charalà sta cercando di aprirgli gli occhi. Dicendogli cose profonde che possono servire alla sua crescita spirituale. Ma... C'è... I suoi occhi sono tappati. I suoi occhi sono accecati. E le sue orecchie sono tappate a questa verità qui. Andiamo avanti. Perché poi soprattutto, oltre all'immagine, il messaggio che stiamo portando è che il vero nome... Ma è a livello spirituale la cosa. Il vero nome, bravo, è a livello spirituale. Il vero nome, che poi dopo che va a vedere e scoprire che l'immagine non è quella vera, vai a cercare anche le origini sul nome. E vedi che il nome deriva dal greco. Hanno dato un nome greco a colui che è il re del popolo di Israele. Perciò già là capisci che è una falsità perché i greci non c'erano all'epoca. Per farti un esempio, è come se tra duemila anni noi, il figlio di Dio... È come se tra duemila anni questi qua, questo qua è il vero popolo di Israele. Oggi il vero popolo di Israele sono i così chiamati neri, i latini e i nativi indiani d'America. Capito? Questo è il vero popolo di Israele. Il popolo di Israele è il popolo del creatore. Il popolo che si è scelto. Se l'altro ha fatto un patto col... E vedete qui, si vede che con lui, con chi sta parlando, il fratello lascerà là. Il ragazzo è perso davvero, perché a questo punto dovrebbe chiedere, ma qual è il suo nome vero? Perché il fratello cercava di spiegargli che guarda, il suo nome vero non è greco. Perché lo hanno dato un nome greco. E si vede che qui, se aveva magari lo spirito che voleva aprirgli gli occhi, avrebbe chiesto qual è il vero nome. Ma lui, cioè, non aveva la pazienza di ascoltare quello che l'insegnante lo insegnava. Lui diceva di tutto di suo, questo là, questo là, qua. E vedete, molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. E questo è un bel esempio per farvi vedere quanto i figli di Giacobbe e i così chiamati Jake, quanto sono lontani dalla verità. E quanto è difficile riportarli proprio alla conoscenza della verità. Ok? Andiamo avanti. Io sarei più contento se riuscissi a insegnarlo anche ad altri fratelli. Perché se vengo qua, perché so che qua ci sono molti fratelli di colore che hanno bisogno di sapere la verità. E che oggi, io sto leggendo tanto ultimamente. Vabbè, ho sempre letto nella mia vita però archeologia, religioni, la nascita delle religioni, queste cose qua. Ma è interessante anche se faccio il cazzone in giro. Quando sono a casa. Ma sai, il messaggio che sto portando è anche proprio di uscire dalle cose che... Ecco, questo è il problema di Giacobbe. Come avete sentito, io sto leggendo tanto ultimamente. Sto leggendo delle cose che alla fine si portano fuori dalla verità. Infatti andiamo a prendere dal libro di Ecclesiaste. Libro di Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 12. Dice... Anzi, andiamo a cambiare. Andiamo a cambiare. Vedete perché dovete avere diversi... Perché come avete visto, quello che c'era prima, parlava di tutto un'altra cosa. Vedete? L'Ecclesiaste si è applicato a trovare delle parole gradevoli. Essie sono state scritte con addirittura e sono parole di verità. Guardate che c'è... Stanno nascondendo una verità qui. Infatti, se guardate un'altra versione, per esempio, se prendo questo... Vedete? Qui c'è la vera cosa che dice... Figlio mio, sta attento a un'altra cosa. Non si finisce mai di scrivere libri. Ma il troppo studio esaudisce le forze. Questa è la vera cosa che c'è scritto lì. E questo è il problema di Giacobbe. Sta leggendo diversi libri, diversi libri. Ma qual è il libro che dovrebbe leggere? Questo libro qui. La scrittura. La legge. Ok? Andiamo a prendere velocemente. E' quello nel libro di... Sì. Isaia. 34. 34. Isaia 34.16 dice... Cercate nel libro del Signore e leggete. Nessuno di essi vi manca. Nessuno è senza il suo compagno, perché il Signore ha dato questo ordine. Il suo spirito li ha radunati. Cercate dal libro. Questo è il libro da leggere. Non altri libri. Non di diverse cose. Perché tanti ormai tutti scrivono libri al giorno d'oggi. Ma il vero libro che ti sveglierà l'anima sono queste scritture qui. I comandamenti statuiti. Ok? Le leggi del Padre Yehawah. Wa Yehawah Shai. Ok? Sono queste le parole che ti dà vita. Torniamo al video. C'è qui, lui dice che bisogna credere in sé stessi. E infatti qui ha sbagliato di brutto. Vediamo cosa dice le scritture. Perdonatemi. Geremia 17.9 Vediamo Geremia 17.9 Scusatemi. Questo è il libro di Geremia. Capitolo 17.9 Dice Il cuore dell'uomo ingana più di ogni altra cosa. Cioè non puoi basarti sui tuoi pensieri e credere in te stesso. Non esiste. Già che il Padre comanda tutto. Anche i tuoi pensieri. Cioè non comandi niente. Non comandi niente. Nemmeno l'aria che respiri non comandi niente. E un uomo che crede in sé stesso. In suo cuore. In quello là. Vedete qui il cuore il cuore Geremia 9 qui dice Il cuore dell'uomo ingana più di ogni altra cosa. Ok? È incorreggibile. Chi può comprendere? Infatti vediamo un'altra versione. Cosa dice? Qui dice Perdonatemi Perdonatemi Qui dice Il cuore è inganevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà il cuore dell'uomo è maligno. Perciò non puoi basarti sui tuoi credi non puoi credere in te stesso. Devi credere nel potere che ti ha messo qui il padre Yahweh e nel nome di suo figlio e nel suo figlio Yahweh Shai e devi osservare i suoi comandamenti non fare di testa tua. Ok? Andiamo avanti. L'essenza che c'è nell'universo è anche dentro di noi. Quando si dice che Dio è dentro di noi significa che è lo spirito che ci ha dato e ci porta testimonianza che lui è quello che vuoi. Per lui devi accettarlo o devi naturalmente naturalmente se non fai lavorare lo spirito del Signore lavora lo spirito dell'avversario. No, me ne sono resu colto in questi ultimi due anni. Khan Khan qui il fratello Charam lo ha dato una risposta bellissima e vedete questo è il problema del Jake e Jake è perso nella nuvola di confusione e non vuole farsi mai aiutare. Qui c'è un insegnante mandato dal padre Yahweh ok qui poteva approfittarsene infatti si vede che non gli è dato non gli è stato dato magari il padre avrebbe misericordia di darglielo di farlo riconoscere un'altra volta o di accettare questa verità ma in questo momento lo spirito non lavorava con quel ragazzo lo spirito non lavorava con quel ragazzo infatti come dice il fratello se lo spirito santo non lavora in te lavora un altro spirito è il contrario lo spirito di Satana semplice andiamo avanti è importante credere in se stessi e ascoltarsi soprattutto è importante fratello sai cosa è importante è importante credere nell'altissimo credere in suo figlio perché è venuto duemila anni fa si è fatto mettere in croce per venire a portare la verità ed è importante osservare i suoi comandamenti ma allora questa è la cosa importante secondo me comunque i suoi comandamenti sarebbe quieto vivere alla fine non ci sarebbe i suoi comandamenti sono scritti nella bibbia e nessuno li rispetta però c'erano già prima i comandamenti scritti già dai su me Khan la cosa più importante è osservare i suoi comandamenti come l'ha detto il fratello c'è il libro di Giovanni non mi ricordo se è 15-15 o 15-14 che dice se mi ami osservi i miei comandamenti ok cioè non c'è ma o sì o questo se mi ami osservi i miei comandamenti cioè Jake sta cercando diverse diverse porte ma queste porte ti portano alla distruzione ora c'è il momento vedi questi insegnanti per le strade che stanno insegnando cose cose fondamentali per darti la vita eterna e cioè usate male queste 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 occasioni arriverà il momento che questo fratello non potrà più uscire fuori a insegnare sta arrivando libro di Amos 8-5 sta arrivando questi tempi qui e ora che c'è vedete che cosa dice Jake è ma questo ma cerca sempre una via riuscita andiamo avanti e finisce il video qui e purtroppo come avete visto quel Jake è perso è un Jake perso aveva la verità davanti ma cercava la via d'uscita di dietro parlava dei sumeri o chissà cosa ma queste verità non si liberano da niente ti mantengono in schiavitù la verità che impari da qualsiasi religione la verità che impari da qualsiasi libro oltre le scritture ti portano in schiavitù infatti andiamo a prendere il libro di Giovanni Giovanni capitolo 8 e versetto 32 dice e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi è questo che fa la verità la verità ti rende libero conoscere questi ingani che il mondo ha messo che i figli dei mavaggi hanno messo finora tutti gli ingani tutti gli ingani e tutte le menzoni che hanno raccontato fin dalla nostra nascita prima della nostra nascita la falsa immagine che hanno messo davanti è questo è questo che ti rende libero è questo che ti rende libero avere una speranza che arriva un altro regno dove regnerà il nostro redentore Yahweh assieme agli eletti e i malvagi saranno in schiavitù per sempre dopo mille anni saranno sterminati questa è la verità che ti rende libero che ti incoraggia che ti spinge a fare di più leggiamo dal libro di Ati capitolo 7 versetto 51 gente di colo duro e incconcisa di cuore e di orecchi voi contrastate sempre allo spirito santo come fecero i padri vostri così fate anche voi questa è la descrizione di quei Jack e maggior Jack quando li troviamo e gli diciamo questa verità qui loro contrastano sempre allo spirito santo che è la Rukh Haqqadash loro vanno contro c'è il fratello che cercava di impartirlo della luce ma lui andava contro appena aveva sentito che i così chiamati uomini bianchi sono i veri diavoli che alla fine questo è infatti se venite qui e io per esempio andiamo a vedere prendiamo scriviamo la parola diavolo ah scrivo in inglese ok e vediamo tutti i versetti dove sono e prendo per esempio quello nel libro di Apocalisse che dice vi chiuderà ok ok c'è quello libro che cercavo abbiate pazienza si trova nel libro di Apocalisse 2.10 ok che dice non temere nessuno di quelle cose che soffrirai ecco il diavolo getterà alcuni di voi in prigione ora andiamo a vedere questa parola diavolo ok che viene dalla parola greca che è diablos ecco qui ora andiamo vedete la parola è come avete sentito diabolos ok ora vediamo vedete il padre inclina la calunnia calunioso accusando falsamente un calunniatore un falso accusatore un calunniatore metafora applicato a un uomo che è opponendosi alla causa di Yahweh infatti questi caucasus cosa hanno fatto finora? si oppongono contro la causa del padre Yahweh il padre dice certe cose nei comandamenti loro fanno tutto il contrario il padre dice che non ci devono essere degli omosessuali loro fanno la legge che li protegge ok il padre dice di far riposare la terra dopo sette anni loro no mai il padre dice di non mangiare certi cibi loro si mangiano proprio quello che il padre non vuole questi sono i diavoli vedete e questo è cioè dovete venire fuori da tutto quello che la chiesa insegna la menzogna che pensano che il diavolo abbia due corna queste cose qui oh state proprio sognando e il fratello lì avete visto Jake Lee ha sentito appena il mio fratello ha detto che il così chiamato bianco l'uomo bianco è il diavolo lui ha cambiato volto è stato disinteressato ok e per chiudere questa lezione vado a prendere perdonatemi vado a prendere dal libro di Ezechiele libro di Ezechiele capitolo 5 e leggo dal versetto 5 che dice così parla il Signore l'Eterno ecco Gerusalemme io l'avevo posto in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano ed ella per darsi all'impietà malvagità vuol dire si è ribellata alle mie leggi più delle nazioni e alle mie prescrizioni più dei paesi che la circondano poiché ha sprezzato le mie leggi e non ha camminato seguendo le mie prescrizioni questi sono i Jake adesso siamo dovunque siamo soprattutto quelli in America sono proprio persi in maggior parte ok questi in Italia sono anche molto persi perché l'uomo bianco gli ha fatto vedere un'altra vita un altro stile di vita e corrono tutti dietro a queste a queste queste illusioni corrono dietro ognuno ad un sogno e hanno dimenticato che per andare dietro a un sogno devi essere addumentato infatti sono degli uomini addumentati che camminano detto questo spero che questa lezione ha edificato qualcuno e voglio dare tutti l'ordi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio il nostro Salvatore Renentore Yahawa Shai miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità pace e saluti alla casa di Yashrallah alla prossima Shalom Shalom